Di Edgar Lee Masters, da antologia di Spoon River, il reverendo Ebner Peet. Non avevo nulla in contrario alla vendita all'asta dei miei effetti sulla piazza del villaggio. Fu per il mio amato Gregge l'occasione di ottenere qualcosa che era stato mio in ricordo. Ma quel baule, aggiudicato a Burchard il barista, non sapevate che conteneva i manoscritti d'una vita di sermoni, e lui li bruciò come cartacce.